ma che cacchio dici? ho vinto, 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 ho vinto Cosa si deve fare? Mi date i soldi? Non ci posso credere, io ho una vita, ho una vita che ho, non ci posso credere. Dov'è il mio? Offro a tutti, offro, ve lo giuro, vi invito a casa, vi amo, è incredibile, non ci posso chiedere. Qua, tutti diversi, no dovrebbero essere tutti uguali, come tutti uguali, e cosa hai vinto? No non hai vinto, hai vinto 5 euro, come 5 euro? Uno solo è uguale, non devono essere diversi, non essere uguali, hai vinto solo 5 euro, eh vabbè me ne prende un altro, me ne da un altro per favore. Grazie. 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 Grazie.